Sono Francesco Fantinato, sono l'attuale capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Bassano, quindi faccio parte della maggioranza e come elemento di maggioranza sono anche componente della Commissione Urbanistica e Territorio, nonché della Commissione Lavori Pubblici. Che dire sul problema che è stato sollevato in questi giorni sulla prossima rotonda che si dovrebbe andare a fare davanti al General Giardino per accedere al parcheggio Santa Caterina. Ho visto che ci sono stati diversi interessanti prese di posizione, credo che il problema meriti anche questa attenzione perché non è un problema da poco quello che si tenta di andare a risolvere con il lavoro che si sta incominciando sulla discesa a Santa Caterina. Allora io direi questo, innanzitutto era una problematica che è sorta, non è da ieri, sono anni che si discute sulla possibilità di dare una maggior fruizione al parcheggio di Santa Caterina, perché pur avendo una notevole capacità, adesso non ricordo i numeri precisi, ma mi pare si tratti di oltre 200 posti macchina, un parcheggio che in realtà viene sfruttato molto poco, quindi questo significa quantomeno sicuramente sotto la metà della sua capacità potenziale. Questo significa che l'accesso dello stesso parcheggio, pur essendo strategico per tutta la città, è un accesso decisamente difficoltoso, l'accesso e anche poi l'allontanamento. Quindi l'idea di andare a potenziare questa infrastruttura a servizio della città mi pare che sia condivisibile, credo sia condivisa da tutti. Non c'è dubbio che poi quando si arriva alla necessità di definire anche nei particolari tutta la problematica e la soluzione al problema, si incappa anche in valutazioni di ordine ambientale, di ordine strutturale, funzionale, eccetera, che vanno assolutamente prese in considerazione. Quindi non solo non mi meraviglia il fatto che si sia sviluppato questo dibattito in città, ma sono anzi contento che questo sia avvenuto perché è un brano di città molto importante e significativo, non solo per la storia, per i monumenti, per il fatto che siamo proprio a ridosso delle mura, eccetera, ma anche perché da un punto di vista logistico è il punto di penetrazione da nord più significativo che la città di Bassano ha in questo momento. Quindi io direi che proprio per chiudere abbastanza così, velocemente il ragionamento sulla rotonda, nessuno ha mai messo in dubbio la necessità di avere il doppio senso in via Santa Caterina, quindi io sono dell'avviso che l'amministrazione fa bene, molto bene a fare, a incominciare quest'opera, e anzi è già cominciata qualche giorno fa, quindi va bene che si vada avanti, sul problema di come risolvere poi i conflitti che il traffico nuovo o anche il vecchio potrebbero indurre poi nel ritorno dalla Santa Caterina per riportarsi in Viale delle Fosse, io credo che si possano fare delle prove e che sicuramente ci daranno un'idea se la soluzione che è stata prevista dai progettisti, rispetto ai quali credo che ciascuno di noi debba avere rispetto, perché se hanno fatto delle proposte, al di là che può piacere o non piacere, sono proposte che sicuramente sono state fatte a ragion veduta, però è anche altrettanto vero che rispetto ad un impatto piuttosto violento che si avrebbe soprattutto sulla parte del belvedere verso nord, quell'impatto della rotonda su questo pezzettino molto bello e caratteristico della città, credo che vada preso in considerazione e vada meditato fino in fondo la soluzione ottimale. Quindi io ho già parlato, parlando di questo argomento con l'assessore competente, ma anche con tutti gli amici del gruppo del PD, del quale sono capogruppo e anche con altri della maggioranza, ma non solo della maggioranza, io direi che la cosa più opportuna è dopo aver fatto, reso efficiente il doppio senso in discesa Santa Caterina, si possono fare, non dico tanto, ma sicuramente qualche mese di prova con degli elementi mobili che in qualche modo simulino il circuito, non dico la rotonda perché non sarà più una rotonda, ma il circuito di emissione e demissione in tutta quella porzione per regolare un traffico che è un traffico notevole, non c'è dubbio, e che se dovesse andare come noi crediamo dovrebbe essere incrementato proprio perché il potenziamento del parcheggio indurrebbe evidentemente un ulteriore traffico in quel loco. Quindi dopo aver fatto le prove ci possiamo mettere lì con tranquillità, seduti intorno a un tavolino, fare tutte le analisi sui dati che nel frattempo si possono raccogliere e da quella base poi si potrà andare a definire se l'opzione che è stata per ora ipotizzata a livello progettuale è l'opzione migliore, oppure prendere soluzioni e strade diverse che possono sempre sul piano tecnico, ci sono sicuramente sempre. Sì, poi ho visto anche delle ipotesi alternative al progetto che l'amministrazione ha approvato. Sono ipotesi che prevedono però delle situazioni che in realtà oggi non ci sono perché è facile prevedere una rotonda magari anche con una forma diversa dalla classica rotonda immaginando che i volumi che oggi sono prospicenti al viale delle fosse verso la Cadonna non ci siano. Oggi quei volumi ci sono, ipotizzare di abbattere con tanta facilità volumi di quel tipo e faccio riferimento all'albergo, mi pare si chiama albergo nave o comunque quell'edificio che si affianca alla bottega del Nardini laddove molto spesso alla sera ci sono giovani a prendere l'aperitivo. Io credo che ipotizzare che quelli non esistano è un esercizio di fantasia che si può fare ma non è certamente una soluzione da prendere come riferimento per un'amministrazione che vuole risolvere il problema domani. Quindi mi pare che non è questa l'opzione in campo rispetto a quella della rotonda prevista. L'unica opzione credo realisticamente sia proprio quella che ho detto prima, l'opzione di fare delle prove, mettersi lì con un po' di pazienza a tavolino, fare tutte le indagini che il caso richiede e poi prendere le soluzioni la migliore o quantomeno la meno impattante.